A parlare di volley con l'Aliosius Berchinelmer in campo domenica contro Trento a caccia di tre punti per alimentare le chance di qualcosa di più dell'attuale quarto posto in classifica. Al termine della regular season abbiamo parlato con il centrale Dragan Stankovic. Sentiamo Filippo Marelli. In una squadra esperta, ma dall'anima imprevedibile e non sempre logica nel bene e nel male, lui è il giocatore di equilibrio. Dragan Stankovic centrale, 36enne serbo, ma di passaporto sportivo italiano, è alla sua seconda stagione sotto la ghirlandina. Il suo impatto nell'economia del gioco dell'Aliosius Berchinelmer è cresciuto tanto nel corso della stagione. Più coinvolto, più partecipa in attacco ed un fattore a muro. Penso che ognuno dall'inizio del campionato fino ad adesso ha fatto un passo avanti. Sicuramente mi sento più protagonista rispetto all'inizio stagione. Sono contento che è così e penso che anche squadra, anche gli altri, è per loro anche più facile attaccare se anche muro avversario si ferma un attimo per i posti in centro. Modena Volley dopo due vittorie consecutive con Civitanova e Ravenne stabilmente al quarto posto in classifica con ancora qualche speranza flebile in realtà di agganciare il terzo in caso di passi falsi di Trento o Civitanova. Prima i gialloblu devono pensare però ai match complicati a Taranto domenica e con Padova al Palapanini domenica 20. Poi saranno playoff scudetto. Siamo quarti 90% in questo momento. L'unica cosa che in questo momento possiamo fare è dedicare questo periodo a preparazione fisica e arrivare all'inizio playoff il meglio possibile. Durante questo campionato nostro dove avevamo tanti alti e bassi sempre abbiamo dimostrato che con le squadre che erano davanti a noi siamo riusciti a esprimersi il meglio. Questa squadra può vincere e siamo solo noi che lo possiamo far vedere agli altri e a noi stessi.